benvenuti nel mondo di giacomo casanova il famigerato avventuriero veneziano che affascinò le corti d'europa con il suo spirito il suo fascino e le sue impareggiabili capacità di seduzione nel diciottesimo secolo un uomo di nome giacomo casanova era noto per il suo ingegno affascinante e la sua capacità di sedure chiunque desiderase ma pochi sanno che questo leggendario amante aveva anche una mente brillante per i numeri e un talento per il gioco d'azzari e fu proprio questa abilità a convincere lo stato francese ad aprire una lotteria un'impresa rischiosa che avrebbe cambiato il corso della storia siamo onorati di aver riunito un gruppo di illustri esperti per esplorare l'enigmatica figura di casanova sono con noi oggi il dottor ortega storia storico il dottor claudius calculus statistico e il critico culturale guido mondo insieme approfondiremo le complessità di questa figura leggendaria facendo luce sulla sua vita sulla sua eredità e sul suo fascino duraturo per il pubblico moderno casanova era un uomo dai molti talenti ma il suo amore per il gioco d'azzardo non aveva uguali era noto per piazzare puntate elevate su qualsiasi cosa dalle carte ai cavalli del 756 casanova arrivò a parigi fuggendo dall'inquisizione e cercando una nuova vita attirò rapidamente l'attenzione dell'aristocrazia francese fu qui che propose un'idea una lotteria si casanova propose l'idea di una lotteria i ministri francesi sostenendo che sarebbe stato un modo divertente ed emozionante per il pubblico di sostenere la neonata ecole militare all'inizio i ministri erano scettici ma alla fine il fascino e le capacità persuasive di casanova li convinsero casanova credeva che la lotteria sarebbe stata vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti lo stato raccoglierebbe l'entrata dalla vendita dei biglietti mentre i partecipanti avrebbero la possibilità di vincere premi che cambieranno la vita ma come ha fatto casanova a convincere lo stato francese ad adottare questa rischiosa impresa tutto dipendeva dalla sua imparaggiabile abilità nell'arte della seduzione casanova era un maestro nell'arte della persuasione aveva un modo di far credere alla gente quello che voleva che credessero e usò quel talento per convincere il governo francese a rischiare con la lotteria alla fine la scommessa di casanova fu vinta la lotteria ebbe un successo immediato e lo stato francese trasse grandi profitti dalla vendita dei biglietti la lotteria rappresentava un rischio enorme per il governo francese ma alla fine si è rivelata un investimento saggio ha fornito una nuova fonte di entrate e ha contribuito a modernizzare l'economia del paese la lotteria non solo ha portato le entrate tanto necessarie per lo stato ma anche fornito una nuova forma di intrattenimento per il pubblico era un modo per le persone di concedersi un po di divertimento innocuo e dare una possibilità ai propri sogni la lotteria è stato un enorme successo attirando partecipanti da tutti i strati sociali era un'impresa rischiosa per lo stato ma statisticamente era garantito che nel lungo termine ne uscisse vincitore ma anche mentre viveva i suoi ultimi giorni in esilio l'eredità di casanova continuava a sedurre il mondo il suo nome divenne sinonimo di avventura rischio e brivido dell'ignoto casanova potrebbe essere stata una figura controversa ai suoi tempi ma il suo impatto sulla storia è innegabile ci ha insegnato che l'arte della seduzione potente quanto al suno altra abilità e così l'eredità di casanova sopravvive non solo nelle storie e nelle leggende che circondano il suo nome ma nel tesuto steso della nostra società la lotteria potrebbe essere iniziata come un semplice esperimento ma è diventata una tradizione amata un promemoria del potere della speranza e delle possibilità grazie per essere stato con noi oggi se ti è piaciuto questo episodio seguici e attiva le notifiche per unirti a noi la prossima volta per un altro viaggio nel cuore della bella italia grazie per aver guardato il video